Oggi vorrei provare a condividere con voi un concept, la dinamica della banca o del salvadanaio. Si basa su tre immagini, questa è la prima che si chiama Credit Box, un luogo, un salvadanaio dove andare a risparmiare i propri crediti che altrimenti al momento attuale siamo costretti a spendere nella fama. In quest'altra immagine invece vediamo l'introduzione di un credit shop e in ultimo come avrebbe anche molto più senso metterla come tastino nella schermata di lobby dove al momento attuale abbiamo un logo di un credito cromatico che non ha molto senso. Invece in quest'ultima immagine vediamo effettivamente quanto avrebbe senso una dinamica del genere in game. Notare come al centro di questa immagine sia stata addirittura realizzata una barra per limitare la quantità di crediti che si possono risparmiare e impedire anche l'abuso di questa dinamica magari player che giocano tantissimo e che magari si farmerebbero punti per sbloccare tantissimi brawler. Secondo me è geniale. Seguitemi su tutti i social per rimanere aggiornati sulle prossime idee o concept che trovo.